Isola dei Famosi, lo sfregio di Filippo Nardi a Avenger, neppure la saluta, striscia la notizia mostra le prove. Dopo l'eliminazione dall'Isola dei Famosi, all'arrivo in studio, Filippo Nardi ha letteralmente ignorato Avenger. L'ha notato striscia la notizia, che spiega come, probabilmente, Nardi era stato informato del fatto che Avenger lo aveva additato come quinto fumatore implicato nel cosiddetto Cannagate. Dunque, Nardi, fa lo ignorri. Già, perché quando Alessia Marcuzzi gli riferisce quanto accaduto lui risponde, me lo stai dicendo adesso. Ma considerato il mancato saluto non ci crede nessuno.